Presentato ieri pomeriggio in Sala Sodano a Palazzo Dalì, Spazio Giovani, un progetto nato per creare luoghi di aggregazione per i giovani del territorio, con un programma di attività sportive, educative e sociali gratuite, che sia capace di attivare e valorizzare i talenti giovanili. Obiettivo principale del progetto, che è destinato a giovani dai 14 ai 34 anni, è quello di promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l'impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco. Spazio Giovani nasce da un mando dedicato allo sport e alla salute, a cui è partecipato e vinto l'associazione Sportivamente, un progetto che si rivolge a tutti i giovani, ma anche e soprattutto ai soggetti fragili, che hanno tante potenzialità, che non hanno potuto mettere in pratica. Non solo però attività sportive con istruttori qualificati. Al centro, infatti, ci saranno anche attività extrasportive e sociali, come servizi di assistenza e sostegno psicologico, orientamento, corsi di formazione alla cittadinanza o anche professionali, laboratori artistici, teatrali, musicali, audiovisivi e multimediali. In questo caso, le attività verranno realizzate attraverso partnership ed effettuate da figure professionali specifiche. Due le strutture protagoniste del progetto, quella in via Lido di Venera ad Erice e quella in via Bastione a Exitta, che finalmente diventeranno un posto dove allenare il talento ed educare i giovani del territorio in una prospettiva inclusiva e sostenibile.